buongiorno a tutti allora dopo avervi fatto le schedine del gigione per le gare di europa league passiamo alle gare di conference league ebbè aspettate che così ho anche i risultati dell'andata che mica me le ricordo tutti a memoria si parte con la sfida tra fenerbace e union san gilwa partita scontata partita al che ha già l'andata è stata chiusa quindi metto un bel uno anche per la gara di ritorno sperando che il fenerbace non faccia il curucu nel senso mi perda 1 a 0 tanto chi se ne frega abbiamo vinto 3 a 0 all'andata ma mi auguro che ribadisca davanti ai propri tifosi la vittoria dell'andata anche per rispetto di chi ha pagato il biglietto fiorentina maccabi aifa all'andata ha vinto la fiorentina 4 a 3 quindi credo che la fiorentina porterà a casa tranquillamente la vittoria più o meno tranquilla 2 a 1 3 a 2 magari 3 a 1 è più forte del maccabi mi auguro che non facciano i curucu perché ragazzi adesso con la regola nuova una volta con la vittoria 4 3 all'andata obbligavi l'altra squadra a vincere 2 a 0 minimo 2 a 0 3 a 1 eccetera oppure 4 a 3 perché anche se vinceva 2 a 3 andava a casa adesso vinci 4 a 3 in trasferta l'altra ti viene a vincere 1 a 0 in casa si va ai supplementari quindi mi auguro che la fiorentina non faccia la curucu come al solito riesca a vincere quindi uno pauc saronico di dinamo zagabria all'andata è finita 2 a 0 per la dinamo zagabria resto dell'idea che il pauc vincerà questa partita 2 a 1 1 a 0 eccetera eccetera 3 a 2 e quindi vi dico 1 a mio rischio e pericolo vittoria plizzen servet all'andata è finita con un canonico 0 a 0 abbastanza puffete resto dell'idea che la vittoria plizzen in casa dovrebbe spangarla contro il servet quindi dico 1 aston villa ajax 1 club bruges molde 1 l'instruc gras 1 e maccabi telaviv olympiacos questa è tosta questa è tosta all'andata il la sfida è terminata 4 a 1 per il maccabi telaviv però ragazzi miei sapete che vi dico qua 12 12 perché non vorrei che succede come della quell'ottavo di finale che ha giocato che la valeva per che la squadra più forte che aveva affrontato anno era successo in europa league dunque ha perso in casa clamorosamente ea momenti la ribaltava al ritorno quindi io vorrei che l'olimpiacos vada in casa del maccabi magari non passa al turno vince 2 a 0 per dire 2 a 1 3 1 3 a 1 ci va vicino ma non gliela fa però quindi 12 facciamo questa doppia anomala a gambe di varicchete proseguiamo con la schedina alternativa fenerma c'è unio san gillois over 2 e mezza 1 e 54 fiorentina maccabi affia fa over 2 e mezza 1 e 56 paox alonico dinamo zagabria l'over 2 e mezza 1 e 87 vittoria plizzen servetta anche qui vado di a mio rischio e pericolo perché sarà difficile visto che l'andata è finita 0 a 0 non bello vorrebbe ne facciano un altro poi mi girano i testi comunque rischio l'over 2 e mezza 1 e 93 aston villa ajax qua voglio vado di gol vado di gol a 1 e 72 perché per me finisce 3 a 1 club bruce ball l'andata ha vinto il ball de 2 a 1 e quindi facciamo ancora gol anche qua data 1 e 73 lille sturm graz dall'andata ha stravinto lille 3 a 0 stiamo di over 3 e 2 e mezzo over 2 e mezza 1 e 75 non facciamo i golosi e infine maccabi hai maccabi telaviv olympia cost io qua vado di gol a 1 e 54 bene ragazzoli sono stato super cali fragilistiche e spiralidoso rapidissimo così non mi dite che sono prolisso che sono qui che sono su che sono giù per la vostra bella felicità e naturalmente ci vediamo alla prossima vedremo come andranno queste partite ripeto mi auguro che la fiorentina fiorentina non fa la stupida stasera come quanta anche se la roma non fa la stupida stasera ma visto che la roma è l'unica che spero mi auguro che è tranquilla dopo il 4 a 0 dell'andata e mi auguro che non faccia scherzi non faccia come quando venne eliminata dal Carl Zeissiena aveva vinto 3 a 0 all'anzi col Maddeburgo ma parlo di metà anni 70 bisogna tornare indietro negli anni 70 inizio 80 la roma vinse appunto 3 a 0 in casa poi andò a giocare nella D'Ar perché non c'era ancora la Germania unificata e mi perse clamorosamente 4 a 0 poi dopo pare pare che la squadra quella fossero un attimino diciamo caricati a molla da qualcosina che allora non si poteva trovare poi finalmente è fatto le regole contro il doping eccetera però si vede che si erano caricati un attimino di più infatti la partita dopo in campionato erano perso nettamente qualcosa di simile perché non ne avevano più ragazzoli io vi saluto vi ringrazio vedremo come andrà ripeto la Fiorentina c'è la qualificazione in tasca spero non faccia la Curucu e vedendo le squadre che ci sono io francamente a parte forse l'Aston Villa e in parte il Fenerbahce non vedo squadre così forti superiori alla cioè Fenerbahce la vincente di Paus all'unico di Namo Zagabia la vincente di Vittoria Pritz & Servet la vincente di Aston Villa Ajax che comincia a essere interessante la vincente di Bruges Molde ma non possiamo aver paura del Bruges dai ragazzi la vincente di Lille Sturzgratz forse Lille anche quella un'altra squadra un po' da prendere con le molle e la vincente del Capite la Vivo Olimpia Cosa cioè ditemi una squadra che è chiaramente più forte della Fiorentina tra queste 16 io non ne vedo certo con l'Aston Villa col Bruges con Lille col Fenerbahce non è che parti da strafavorita però te la puoi giocare tranquillamente quindi io a Fiorentina se gioca seriamente non fa la curucu come al solito la finale la può raggiungere poi in finale vediamo cosa succede anche per vendicare la finale dell'anno scorso che è rimasta qua a me che non sono tifoso della Fiorentina figurati ai tifosi della Fiorentina detto questo dai vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie.